In realtà dopo la partita di ieri siamo risolte dalle nostre ceneri, credo proprio di poterlo dire perché ieri abbiamo fatto una partita davvero deludente, sapevamo che abbiamo giocato al di sotto delle nostre aspettative e oggi abbiamo voglia di dimostrare quello che è davvero la retusare. Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra essenza, abbiamo avuto il coraggio anche di sbagliare, ma siamo state molto determinate e credo che ci siamo meritati davvero questo risultato. Ci abbiamo messo tanto tanto cuore. Noi siamo venuti a giocarcela e è ancora tutto aperto, quindi una grande delusione oggi, ma stasera ci riposeremo, rinfrescheremo le idee e domani ce la metteremo in volta come sempre. Quindi un colpo al lupo a chi vincerà.